Musica Turbativa d'asta, abuso di ufficio, turbata libertà degli incanti, corruzione e falsità ideologica i numerosi appalti nel comune di Balsorano, in provincia dell'Aquila, relativi alla costruzione di una nuova scuola materna e media ad interventi di riqualificazione urbana e addirittura per la manutenzione delle lampade votive di un cimitero. Per questi motivi la Polizia di Stato, alle prime luci dell'alba di questa mattina, ha emesso provvedimenti limitativi della libertà personale a carico di amministratori del comune di Balsorano, tra cui un ex assessore, liberi professionisti, titolari di imprese private, in tutto nove persone. Più in particolare sono state eseguite un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un tecnico comunale, tre divieti di dimora nel comune di Balsorano per un ex assessore, un amministratore comunale e un imprenditore, due divieti di dimora nel comune di Balsorano con la contestuale sospensione della professione per 12 mesi a due liberi professionisti. L'indagine, durata due anni e che si avvalsa anche di intercettazioni telefoniche, è partita da un esposto anonimo. Prequisizioni e indagini sono ancora in corso, la questura non è intesa ancora rendere noti i nomi delle persone coinvolte. Gennaro Capasso, nuovo dirigente della squadra mobile dell'Aquila, oggi spiegato in conferenza stampa che il sistema corruttivo posto in essere dagli indagati si è concretizzato alterando gare di appalto e procedure pubbliche, falsificando documenti e assumendo accordi corruttivi, senza documentati passaggi però delle classiche mazzette. Un esempio, il tecnico comunale, considerato il dominus del sistema corruttivo, avrebbe abbassato illecitamente sotto la soglia dei 40.000 euro le spese tecniche dell'appalto per la realizzazione della nuova scuola, per poter poi procedere a un affidamento diretto e senza gara al professionista di sua fiducia, facente parte, questa è l'ipotesi accusatoria, del sodalizio. Venivano studiati alcuni accorgimenti, tali per fare in modo di alterare delle gare. In un caso, ad esempio, come vi ho detto prima, si è riusciti a far stare le spese tecniche sotto ad una soglia, oltre la quale si sarebbe andati in gara. In questo caso, invece, è stato possibile aggiudicarlo ad una impresa singola. Scontro sempre più aspro tra la CISL Sanità della Provincia dell'Aquila e il direttore dell'Asla Vezzano Sulmona dell'Aquila, Rinaldo Tordera. Il coordinatore Gianfranco Giorgi, in un'infocata conferenza stampa, torna ad accusare Tordera di chiusura ad ogni dialogo sui tanti problemi che attanagliano l'ospedale San Salvatore dell'Aquila e questa volta minaccia lo stato di agitazione. E ha ribadito, le liste d'attesa per visite di vitale importanza sono oramai insostenibili, c'è carenza di personale, eppure Tordera afferma che ci sono 90 esuberi, non si fa nulla per stabilizzare i 400 precari, per rivedere le posizioni organizzative, procedere finalmente agli scatti verticali. A queste critiche, Tordera ha risposto definendo imbarazzante la confusione della CISL, che dà informazioni errate alla gente, in particolare quelli sui tempi di attesa, enormemente superiori a quelli reali, sostiene Tordera, tacciando insomma la CISL di remare contro e per di più di non essere attendibile ed equilibrata. La risposta della CISL non si è fatta però attendere. Le problematiche di attesa, che noi l'abbiamo già riportato in più occasioni sulla stampa, per esempio ci vogliono 10 mesi per fare una risonanza magnetica cranio, ci vogliono un anno abbondante per una vista senologica, 6 o 7 mesi per una mammografia e quindi ci sono tantissimi problemi che riguardano il cittadino. Per esempio è stato giusto lobby all'interno del pronto soccorso per carenza di personale. A noi ci sorprende questa risposta del dottor Tordera, perché noi vogliamo solo dialogare, siamo un sindacato collaborativo, poi se non ci vuole rispondere o ce l'ha con qualcuno, vabbè allora come ho detto prima la nostra risposta sarà abbastanza dura. Ovvero? Ovvero indiremo lo stato di agitazione, noi dobbiamo tenere presente che siamo il primo sindacato, non siamo soli, La Commissione Salute e Lavoro nella seduta di giovedì 20 ottobre ha ascoltato i rappresentanti del mondo editoriale e del giornalismo abruzzese allo scopo di approfondire e migliorare i progetti di legge sul tema del sostegno all'editoria. Due provvedimenti simili, uno a firma del consigliere Maurizio Di Nicola, l'altro sostenuto dai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con Di Pangrazio primo firmatario. I commissari hanno sentito i pareri del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, del sindacato dei giornalisti, del Corecom, dell'organizzazione di categoria Eranti Corallo e dell'associazione delle radiotelevisioni europee associate. Entrambi i sostenitori dei progetti hanno espresso la volontà di pervenire ad un testo unico con la possibilità di accogliere alcuni dei suggerimenti dei soggetti intervenuti. Ascoltiamo ora l'intervento reso a margine dell'audizione in commissione del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Noi riteniamo che la dotazione finanziaria probabilmente è da rivedere perché incide scarsamente, così come è impostato nei due progetti di legge presentati, può incidere scarsamente per la ripresa e il riavvio del settore in Abruzzo, del settore dell'informazione e abbiamo potuto anche in questo caso constatare che c'è una grande volontà politica di riuscire a trovare dotazioni nuove, dotazioni più consistenti per dare un contributo serio al settore. Legare a letto e imbottire di farmaci persone con disagi psichiatrici che invece andrebbero curate e reinserite in società, ovvero la contenzione meccanica e farmacologica, di cui spesso si fa uso o meglio abuso, nonostante la chiusura dei manicomi, i passi da gigante che sono compiuti negli ultimi decenni in Italia a seguito della legge Basaglia nell'ambito della salute mentale. Questa è la cornice tematica di E tu slegalo subito, una tre giorni da giovedì 27 a sabato 29 ottobre, organizzata all'Aquila dall'associazione 180 Amici Ollus. Pregio dell'iniziativa è che il tema della follia e della salute mentale sarà raccontato con il linguaggio universale del teatro. Il 27 alle ore 21 Rosetta Malaspina per la regia di Margherita Di Marco e Vincenzo Mercurio presso lo spazio rimediato, venerdì 28 e sabato 29, sete per la regia di Emiliano Aiovalasit e Psicosi, diario di un'anima di Preziosa Salatino e Sabrina Vicari, entrambi alla casa del teatro di Piazza d'Arti. Al nostro microfono il direttore artistico Giulio Votta. I tre spettacoli parlano in tre modi diversi di tre personaggi, personaggi anche abbastanza noti, italiani e stranieri. Il primo spettacolo parla di Rosetta Malaspina, il secondo spettacolo parla di Leonardo Vitale e il terzo spettacolo parla di Sarah Kane. Rosetta Malaspina era una donna del sud, una donna calabrese che ha avuto dei problemi in seguito a quello che è stato un amore finito male, ha aspettato per più di 50 anni un uomo che era partito per cercare lavoro e che non è più tornato. Il secondo spettacolo, quello su Leonardo Vitale, è uno spettacolo che parla del primo pentito di mafia per motivi di coscienza, che viene internato dalla mafia in due grandi strutture, in due ex OPG, che sono l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia e nell'OPG di Montelupo Fiorentino. Il terzo lavoro invece è un lavoro sugli ultimi momenti di vita di Sarah Kane, una poetessa molto giovane, guarda a questi ultimi momenti di vita il dissidio interiore che viveva questa persona. Grazie!